Presidente, grazie perché l'argomento che oggi curiamo nell'istruttoria di competenza dell'Aula è un argomento eminentemente politico. Ieri mi sono trovato a dare contributo anche nella prima commissione dove abbiamo cercato di fare un'analisi, un'attività di lettura istruttoria che tenesse da conto sia il profilo tecnico che il profilo giuridico all'interno di un quadro di lettura anche politica. Che cosa accade con questo decreto legge già istruito alla Camera dei Deputati e che per compiutezza è rimesso anche al lavoro del Senato? Noi abbiamo, attraverso un decreto legge, il rafforzamento dell'attività istruttoria riferita alla cibernetica, alle telecomunicazioni, stabilendo come valore, in termini naturali, il mantenimento della certezza della sicurezza nazionale informatica. Il bene allora da presidiare e da assicurare è il bene della sicurezza informatica dal punto di vista della sicurezza nazionale. Quali sono le norme a presidio per fare sì che la sicurezza nazionale venga garantita? Intanto l'articolo 3 e l'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Europa, dove si configura un perimetro dello spazio nazionale superando la categoria del perimetro statuale nazionale. È già accaduto per quanto concerne la mobilità aerea e qui viene confermato, e non poteva che essere così sul piano della infrastrutturazione telematica. Noi sappiamo che la statualità dalla notte dei tempi, qui ci sarebbero voluti adesso illustri e autorevoli componenti di questa Assemblea. Penso a Guido Melis, al sardo Guido Melis, che ha studiato le istituzioni politiche in lungo e in largo. Penso anche al Presidente Merito della Repubblica Francesco Cossiga, a Ettore Rotelli, a Gianfranco Miglio, i quali ci hanno lasciato in testimonianza autorevoli studi sul come lo Stato è nato e come lo Stato si è garantito. Lo Stato ha avuto bisogno di confini. E di quale tipo di confini ha avuto bisogno lo Stato? Di confini naturali, resitali i confini naturali dalla presenza di forze umane, di forze umane armate in termini tradizionali. Ma basterebbe oggi assicurare la sagoma dei confini dello Stato coniugando le risorse naturali dell'acqua, dell'altura, della difficoltà di superamento o il numero di forze fisiche umane per rendere certa l'intangibilità del suolo, addirittura della sovranità? Assolutamente no. In ragione di quello che ha detto a tratti anche la collega Binetti, quando ha parlato che la tecnologia ha superato la forza dei confini di confinare, la forza dei confini di difendere, dei confini naturali e quelli che possono essere considerati tradizionali. Guardate, una regione, la regione Lombardia, credo anche a seguito degli utili dibattiti al tempo della conferenza delle regioni retta da Vasco e Rani, pose il tema nel 2012 del piano regolatore del sottosuolo. Era un piano regolatore che voleva fare ordine tra le reti che armano e arredano il sottosuolo, che conducono normali erogazioni di servizi tradizionali, acqua, elettricità e quant'altro serve alla civiltà e al funzionamento delle città. Ma basterebbe il piano regolatore del sottosuolo del 2012 della regione Lombardia per metterci al riparo da aggressioni, penetrazioni per via informatica e cibernetica? Assolutamente no. E allora il legislatore fa ricorso alla risorsa normativa. E che dice la risorsa normativa? Semplifichiamo. Rendiamolo comprensibile e dicibile anche a chi non fa parte del sito di quest'Aula. La norma che stiamo votando contempla un approfondimento, un rafforzamento dell'attività istruttoria nel dire sì o no a chi vuole fare investimento informatico, telematico, di cibernetica nel suolo dell'Europa e nel suolo dell'Italia. E questa procedura rafforzata istruttoria che cos'ha come strumento straordinario? Il veto. Compare l'istituto del veto all'articolo 4 bis del decreto legge istruito alla Camera. Allora un luogo di dialogica politica, di dialogica parlamentare, si pone la domanda. È il caso di prevedere il veto come istituto per mettere al sicuro il confine nazionale dell'Europa rispetto agli investimenti della tecnologia. Certo che sì. Perché può accadere il contrario della crescita economica con un uso maldestro della tecnologia. Nel 1999 Massimo Cacciari e un altro bravo intellettuale esperto nel pensiero filosofico Emanuele Severino ragionarono se la tecnologia portata all'estremo porta soltanto del bene o addirittura porta il suo contrario. E Cacciari mi ricordo che mise con un ragionamento implacabile in evidenza che la tecnologia deve conoscere i limiti. E qui noi stabiliamo dei limiti laddove viene messa a rischio la sicurezza nazionale. E c'è un'altra domanda. Chi è che stabilirà il limite, il veto, se è a rischio la sicurezza nazionale? Palazzo Chigi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con una procedura che ha sia l'avvertimento del momento eccezionale. Gianfranco Miglio non so dove sedeva, ma di sicuro avrà detto nei suoi interventi il valore del momento eccezionale quando entra in campo lo Stato. è il momento eccezionale di cui deve avere consapevolezza lo Stato. Chi è che lo svela? Palazzo Chigi. E in base a quale legge? All'origine la legge 400 dell'88, che venne pensata da un altro senatore illustre, Andrea Manzella, che di sicuro frequenta e conosce il mio collega Zanda. E precisò Manzella nel riordino della Presidenza del Consiglio qual era il punto nevralgico dello Stato laddove c'è il rischio, il pericolo. Ma anche Cossiga fece una riflessione in caso di guerra dove si attiva l'avvertimento. E noi abbiamo una norma che razionalizza questo. Che può fare il Parlamento, se è serio rispetto a questo? Attivare sicurezza di informativa, consapevolezza nell'attivazione dell'informativa. E c'è. La Commissione parlamentare competente viene informata ad un ritmo periodico, ogni 30 giorni, così come c'è il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale. Dentro questa cornice, allora, e mi avvio alla conclusione, serviva questa legge? Perché è la domanda di fondo. Se fossimo in un colloquio tra privati diremmo è la domanda etica. Serviva questa norma? Certo che sì. Serviva in questo momento? Certo che sì, perché ci sono operatori internazionali delle lontananze che possono mettere a rischio la sicurezza nazionale. Allora, dentro questa cornice, io invito a votare sì, ma la dichiarazione di voto la farà il più competente di me, anche sul piano tecnologico, il senatore Collina, ma serve anche trovare un punto di convergenza, come tutte le volte che si parla di sicurezza nazionale dovrebbero fare i Parlamenti. Certo, il muro di Berlino non ci avrebbe aiutato, in questo caso a garantire la sicurezza nazionale.